Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati a una nuova puntata con Good Morning Milano sempre qui con voi agli studi di Milano All News per raccontarvi un po' appunto la città tutto quello che avviene sempre ogni giorno nella nostra grande Milano, nella nostra grande metropoli oggi però diciamo che parliamo un po' di tante cose nel senso che parliamo della vita di tutti i giorni e parliamo di quello che è importante che tutti i giorni si faccia cioè quello di essere sicuri di poter non avere problemi che insomma si sa che ogni giorno si rischia uno dei modi più semplici è ad esempio assicurarsi però insomma assicurarsi è facile dirlo ma a farlo non è poi così semplice beh esiste una figura che può aiutarvi a fare invece questa cosa ed è il broker assicurativo detto così sembrerebbe chissà cosa un nome strano chissà che cos'è beh per scoprire che cos'è ne abbiamo invitato uno in studio abbiamo qui con noi Michele Arrigazzi buongiorno buongiorno tutti buongiorno dottore cos'è un broker assicurativo lei è un broker assicurativo io sono broker assicurativo ho uno studio qua a Milano storico nel senso che è nato nel 71 questo studio all'inizio non c'ero perché avevo tre anni nel 71 però ecco una struttura molto consolidata che opera appunto nell'ambito delle assicurazioni un broker di assicurazioni è sostanzialmente un consulente che cerca di trovare delle soluzioni in ambito appunto assicurativo per cercare di assolvere tutta una serie di problematiche allora oggi in modo particolare volevamo parlare di un'assicurazione molto poco diffusa ma invece estremamente importante che è l'assicurazione dell'abitazione dico poco diffusa perché oggi come oggi ci sono più o meno fatte 100 numero di case 20-25 sono quelle assicurate 75 non sono assicurate questo è un po' tipico del mercato italiano che vede nell'assicurazione uno strumento spesso poco noto c'è una forte diffidenza da parte delle persone verso questo strumento dovuto un pochino a tanti fattori uno dei fattori principali è diciamo così l'idea di del fatto che a me le cose non capitano mai quindi questo fatalismo che è abbastanza tipico dei diciamo così dei latini già invece in ambito invece a me a volte le cose capitano però si può non essere rispondisti diciamo perché è una persona perché qualcuno dovrebbe appunto fare un'assicurazione sull'abitazione? ma allora innanzitutto perché l'assicurazione è il bene spesso volentieri più prezioso che noi abbiamo è il luogo dove noi viviamo più tempo e perché poi purtroppo tante cose capitano allora innanzitutto preciso che quando si parla di polis abitazione si parla di un contratto assicurativo che prende in considerazione tre aspetti differenti tre ambiti tre possibili rischi differenti uno è quello che una volta si chiamava in modo diciamo così ormai desueto capofamiglia la copertura da capofamiglia che sono i danni che io arreco a terzi nell'ambito della mia vita privata familiare quindi il classico caso del bambino che è nel giardinetto fa male a un suo compagno di giochi questo tipo di evento può essere tutelato con questo tipo di copertura che appunto si chiama responsabilità civile del capofamiglia responsabilità civile familiare che fa parte di questa polizza abitazione fa parte di questa polizza abitazione è una di questi non dobbiamo pensare di venire solo alla casa esatto dei tre capisaldi anche la casa perché chiaramente io a casa posso dimenticarmi aperto il rubinetto l'acqua esce e danneggia quello pensiamo a tutti i danni che noi possiamo arrecare a terzi nell'ambito ripeto della vita privata questo primo tassello un secondo tassello invece quello che poi dà il nome alla polizza sono i danni che subisce l'abitazione classicamente si parla di danni da incendio da eventi atmosferici da attivandalici da fenomeni elettrici da rottura di tubazioni quindi tutti quelli che sono le motivazioni che possono danneggiare un'abitazione possono essere tutelati da un contratto assicurativo ultimo aspetto purtroppo oggi molto sentito è il problema dei furti quindi io ho la mia bella abitazione è chiusa più o meno bene torno a casa e qualcuno ha violato la mia dimora e quindi portando arrecando danni al fabbricato perché magari hanno spaccato la porta e la finestra e poi portando via oggetti più o meno preziosi che sono all'interno ecco ragazzi se ho capito bene questa diciamo è la polizza abitazione diciamo in tutto il suo splendore diciamo però non tutte poi le assicurazioni la applicano nella stessa maniera è questo che quindi mi serve il broker esatto il concetto di broker è proprio quello di avere una figura indipendente da quelli che sono i produttori dei contratti assicurativi diciamo non è una assicurazione di una marca esatto non è un agente non sono l'agente la differenza tra agente e broker è quello che l'agente rappresenta una compagnia una o più compagnie però ha un rapporto stretto con queste compagnie si dice un mandato di collaborazione invece l'agente non ha un mandato con le compagnie il broker non ha un mandato con le compagnie ma ha un rapporto diretto con l'agente quindi io devo rappresentare l'esigenza del singolo cliente detto questo non voglio dire che in assoluto il broker è meglio dell'agente e viceversa sono due cose un poco differenti io dico sempre ci possono essere dei cattivi broker che fanno per così dire solo il proprio interesse quindi propongono dei prodotti dove magari hanno delle commissioni alte e non pensano all'esigenza del proprio cliente finale ci sono viceversa degli agenti molto in gamba che invece pensano sempre soltanto all'esigenza del proprio cliente quindi cercano comunque di costruire un prodotto che sia valido questo perché mi sembra corretto fare appunto questa precisazione il broker chiaramente ha un'indipendenza differente ha la possibilità di agire con tantissimi marchi noi giusto per dare un'indicazione relativa alla Davide Assicurazioni ma è valida per tutti i miei colleghi operiamo con 20-30 marchi differenti e quindi è chiaro che questo ci dà la possibilità di poter anche individuare il prodotto giusto per la singola situazione a queste differenze però che possono esserci all'interno del poliz in questo caso abitazione sì diciamo che le differenze sono differenze di innanzitutto della tipologia proprio della garanzia innanzitutto potrebbero esserci dei contratti di tipo si dice un risk che vogliono coprire un pochino tutti i rischi invece ci sono dei contratti si definiscono rischi nominati cioè in pratica vengono coperti tutta una serie di eventi specificatamente elencati invece la forma un risk funziona in modo opposto un po' come un negativo e tutte le garanzie tutti gli eventi che sono che non sono esplicitamente esclusi sono invece compresi quindi rischi nominati tutto ciò che è effettivo perché forse andare da un professionista a chiedere una consulenza non è proprio semplice ecco poi le grandi differenze ci sono per esempio dei contratti che sono magari specificatamente costruiti per le ville altri che sono più idonei per gli appartamenti e non sempre oppure altri sono ancora più idonei per certi tipi di abitazioni magari di dimensioni più modeste quindi magari polizze meno costose un pochino più semplici quindi ogni diciamo esigenza comunque può trovare una soluzione differente e non è detto che quella compagnia abbia la soluzione giusta anche in quel caso voi appunto quindi cercate la giusta compagnia con la giusta sicurazione per il giusto cliente ne so che immagino che poi due clienti diversi che magari chiedono un certo tipo di sicurazione simile poi abbiano faccio un esempio concreto verrei così rende un pochino più chiara la questione se io ho un giardino ci sono alcune compagnie che in automatico danno l'estensione proprio delle danni subiti arrecati dagli alberi ad alto fusto per esempio altre polizze invece questo non lo contemplano è chiaro che tutto va visto in funzione dell'esigenza da una parte del costo quindi se io ho un cliente che non ha il giardino è inutile fargli pagare questo tipo di estensione e quindi ecco questo è l'elemento che ci consente di fare più consulenza avere tanti testi da poter confrontare poi è chiaro che alla compagnia noi possiamo chiedere degli interventi specifici e dire guarda questo cliente ha queste tre esigenze e devi esprimermele però cosa succede che quando noi chiediamo degli interventi manutentivi e quindi creiamo un vestito ad hoc questo spesso volentieri ha un costo aggiuntivo se invece si trova un bel paio di scarpe fatte a mano su misura esatto se invece io trovo un paio di scarpe industriali però che vanno bene per quella persona io probabilmente trovo un prodotto che va bene comunque e che ha un costo inferiore quindi anche questo se dovessi rassumere in poche parole perché una persona si debba rivolgere a un broker di davide assicurazioni sì adesso al di là della davide assicurazioni faccio magari più discorso di categoria non potevo dire a un uomo per sempre che avevo qui lei sì no no certo beh diciamo proprio per questi motivi che il broker ha comunque una indipendenza differente quindi il broker consulente che si mette ad analizzare realmente le esigenze del proprio cliente può portare dei risultati differenti ecco qua io più che altro più che dire all'utente finale rivolgetevi al broker piuttosto che alla gente voglio fare un discorso un pochino più generale rivolgetevi a un intermediario che è un professionista che vi fa tante domande che perde un po' di tempo per capire la vostra situazione e che magari viene anche a vedere la propria abitazione le proprie esigenze perché soltanto in questo modo uno può veramente capire che cosa può servire l'utente finale qua invece voglio spezzare una lancia sul discorso delle assicurazioni online una lancia in parte contro nel senso che spesso l'assicurazione online non ha innanzitutto la possibilità di conoscere l'utente finale se non per poche domande che questo inserisce ma soprattutto manca quell'elemento di consulenza che necessariamente deve esserci quindi io online posso andare a vedere in un sito tutta una serie di situazioni posso inserire anche tutta una serie di dati però la soluzione che viene fuori spesso è una soluzione molto standardizzata che non coglie le effettive esigenze del singolo allora tolte quelle situazioni io dico questo la polizia online va benissimo per le polizie auto quando io devo fare la polizia RC auto nuda e cruda io ho pochissime esigenze collaterali allora in questo caso è semplice trovare il prezzo migliore e intanto l'esigenza è molto ben individuata quando le esigenze iniziano ad essere un pochino più complesse l'aiuto di un professionista è sicuramente utile altro aspetto importante è che siccome noi non abbiamo parlo del pubblico comune una particolare conoscenza degli strumenti assicurativi e anche di cosa si può assicurare e cosa no essere aiutati da un bravo professionista è importante è importante sì ottimo ragazzi io la ringrazio tantissimo ma il tema continuiamo perché noi facciamo un piccolissimo break e poi tiriamo con un suo collega a parlare di un certo tipo di polizza che mi sembra strano ma a Milano invece è una polizza che va molto ma adesso ne parliamo subito dopo piccolissimo break grazie mille di essere stato qui con noi grazie a voi buongiorno a tutti a fra poco grazie mille di essere stato qui con noi